Onorevole Angela Napoli, lei pomeriggio sarà nel cuore, se possiamo definirlo, dell'Andrangheta, dove è la cosca più impotente della Calabria, quella dei Mancuso? Sì, questa sera io sarò a Nicotera per assistere all'intervento del dottore Gabrielli, che è il capo della Polizia Italiana, il quale farà un'intervista pubblica proprio sull'Andrangheta. E ci vado con piacere perché reputo importante questa presenza proprio a Nicotera. Sappiamo benissimo che da qualche mese la zona di Nicotera l'invadi, ma un po' direi il vibonese tirrenico in particolare è nell'occhio del ciclone perché si è aperta una guerra fratricida dove a capo ci sono sempre, come al solito, le famiglie Mancuso. Parlo di famiglie perché ormai apparentemente si sarebbero separate, però il cuore è sempre quello. È una situazione molto preoccupante, quindi trovo assolutamente importante questa presenza stasera di Gabrielli perché credo che sia un segnale indicativo dell'importanza dello Stato. Cioè in questo momento forze di polizia, magistratura, non possono esimersi dagli interventi adeguati in quella provincia. Ma soprattutto io spero che servano questi incontri anche come input per la società civile perché mi sono sempre sembrati troppo addormentati i cittadini di quel territorio. Forse le cosche Mancuso hanno avuto la possibilità di crescere proprio perché c'è stata una acquiescenza non sempre voluta per carità, però di fatto rispetto a questa potenzialità e a questa pervasività delle cosche.